C'era anche Fabio Riva, latitante per quasi tre anni prima di costituirsi, alla lettura della sentenza della Quarta Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la condanna a sei anni e mezzo di carcere per il figlio dell'ex patron dell'Ilva, Emilio, per la vicenda della presunta truffa ai danni dello Stato da circa 100 milioni di euro. Confermate anche le altre due condanne inflitte in primo grado ad Alfredo Lomonaco, ex presidente della finanziaria svizzera Youth in Trade, e Agostino Alberti, ex consigliere delegato di Ilva S.A., la confisca di 91 milioni di euro e la provisionale da 15 milioni a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. La difesa ricorrerà comunque in Cassazione, come ha confermato al termine dell'udienza, il legale di Alberti, l'avvocato Francesco Centonze. È una sentenza che desta grande sorpresa nella difesa perché siamo convinti di avere degli argomenti forti, fortissimi a sostegno delle nostre tesi. Non disperiamo comunque. e non appena lette le motivazioni certamente ricorremo in Cassazione. Lei parla per quanto riguarda Alberti o anche la sua posizione può essere riferita anche a Riva? No, assolutamente. C'è una posizione comune a tutte le difese sulla assoluta legittimità del ricorso ai finanziamenti, ai contributi previsti dalla legge Ossola. Una posizione comune sul fatto che mai è stata ingannata Simest, una posizione comune sull'assoluta buona fede dei nostri assistiti e sulla legittimità del loro comportamento.